La serata qui al Bella Vita inizia così sul palco del Live Room, la sala che si trova al primo piano, sala fumatone, però qui al Bella Vita potete divertire anche nella sala al piano di sotto dove si balla la musica commerciale, è qui una festa, certo che è qui una festa perché il Bella Vita è la discoteca più frequentata della zona, andiamo a divertire Ma te ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire Bancone del Live Room, io sono con Mirko, ciao Mirko! Senti innanzitutto cos'è che bevono di più qui al Live Room? Ma di solito vanno i cocktail classici dal vodka lemon, gin lemon, cuba libre Però stasera prepariamo qualcosa di speciale per i nostri clienti Buono, cosa vi prepari? Facciamo un Bronx, il Bronx è un drink che prende il nome dal quartiere di New York però è un drink fatto dal gin, vermut dry, vermut rosso e annunciato con il succo d'arancia Allora sentimi, aiutami a dire ai ragazzi che vengono a ballare qui bevete ma bevete responsabilmente, mi raccomando Quello sempre ragazzi Dopo una scelta ora smettete di bere e sempre con la testa Mi raccomando Grazie a te Ragazzi la serata sta per partire, sono con la forza del bella vita Stai qui con me, Delgado, Beffi, Lisa e Claudio Sacks C'è questo progetto bellissimo che è fatto appunto da voi che è il Power Night Spiegami un po' che cos'è Beh la Power Night è una cosa creata specialmente da noi, dal bella vita Che racchiude i quattro migliori artisti che abbiamo creato un po' noi in questo locale Riguardo a me come DJ, agli experti, abbiamo la Lisa, la cantante e poi abbiamo il percussionista Silvano Delgado che penso che ormai conoscano in tutti in Italia Il nostro grande Sansofono Claudio Sacks Diciamo che la serata racchiude una cosa particolare, un misto e una musica un po' diversa Che non troviamo in tutti gli altri locali Cerchiamo di far vedere veramente la bravura musicale che ognuno di noi esprime nel loro strumento musicale che suona Questo si vede anche perché voi qui al bella vita fate veramente un grandissimo lavoro perché tirate veramente sulla gente La fate veramente divertire Sì, sì, è un risultato ottimo che noi siamo veramente contenti di tutto ciò Dopo un po' ci rivediamo, mi mancavi quasi Poi visto che è Natale, buon Natale, buon Natale a tutti Insomma, Natale lo passiamo in famiglia e lo passiamo in famiglia anche a lavorare Ma è una grande famiglia questa, no? Sì, questa, la Power Night, bella vita, è una grandissima famiglia Ci divertiamo, stiamo bene, c'è armonia E ti dirò, ci sono anche dei grandi artisti e creiamo delle belle situazioni Silvano, progetti nuovi in vista? Eh, progetti in vista, oltre alle produzioni discografiche Dal 18 gennaio entrerò a far parte dello staff di M2O Insieme a Paul Cutier E niente, nel programma di Sunrise Poi dopo Befana aprirò un'etichetta discografica Il progetto che abbiamo già parlato tempo fa Meglio di così, speriamo che sia un bel 2010 Allora ragazzi, io vi ringrazio E tra un pochino la serata è parte Vi lascio andare a lavorare E qui al bella vita con questi ragazzi del Power Night Vi diamo un saluto e ci rivediamo alla prossima, grazie Ragazze, stasera al bella vita, tantissime belle ragazze Io sono con Chiara e Clarissa, giusto? Allora, senti, quanti anni avete? 18, 17 Buonissime, stasera, qui stasera al bella vita, perché? C'è Natale per festeggiare tutti insieme e per stare in compagnia È Natale e bisogna festeggiare E cosa fate nella vita? Io studio, sono all'ultimo anno del liceo, studio Senti, qual è il vostro sogno nel cassetto? Primo è diventare una ballerina Prima di tutto la carriera e poi trovare il marito Bello! Allora, volete, lascio il microfono, salutate tutti gli amici che ci stanno guardando Ciao! Ciao! Come ti chiami? Jonathan, Andrea Senti, cosa fate nella vita? Io lavoro Io ho un libro professionista, faccio l'assicuratore Ah, che bel lavoro Senti, qual è il vostro sogno massimo? Cosa vorreste arrivare a realizzare nella vita? Per me è fare carriera nell'azienda in cui lavoro Allora, uguale, ho trovato una bella donna come te Oh, grazie, che carino, grazie Buon divertimento questa sera a Bella Vita, grazie Allora, eccomi qua con la fotografa ufficiale del Bella Vita Lei si chiama Roxana È una bellissima ragazza di me Senti Roxana, allora, noi ci vediamo sempre girare Nelle piste del Bella Vita Che cosa fai? Sono la fotografa ufficiale Vi fotografo tutti e poi li mettiamo su Facebook Allora, tu catturi le facce più belle I ragazzi che si divertono Sì, sì I ragazzi che si divertono soprattutto Perché loro sono l'anima del Bella Vita Grazie Roxana Prego Grazie a tutti